Sono notti magiche per l'Italia calcistica, mentre sono notti tragiche per il Movimento 5 Stelle, notti insonni, alle prese con quella che è la crisi più violenta dall'atto di fondazione del movimento creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Il braccio di ferro tra il fondatore e l'ex premier Giuseppe Conte è giunto alla scena finale con l'ultimo disperato tentativo di sintesi messo in campo dal ministro degli esteri Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico. In attesa delle evoluzioni romane, il Movimento cerca di tenere duro in periferia. La risposta a quanto sta accadendo a Roma, dice Andrea Greco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, è continuare ad occuparci di quelli che sono i reali problemi della gente. Io credo che oggi i cittadini italiani vivano delle straordinarie sofferenze a livello sociale, economico, lavorativo, per cui certamente quello che sta vivendo il Movimento 5 Stelle non ci deve distrarre dai veri problemi del Paese. Quelle che invece sono le dinamiche interne del Movimento, certamente è inutile nasconderci, un po' ci preoccupano, se non altro perché in questo momento il Paese ha bisogno di un movimento forte, di un movimento che si muova all'unisono e quindi credo che la ricomposizione tra questi due blocchi, se vogliamo, chiamiamoli così, dovrà esserci o sì o sì. Questo è quello che credo io. Naturalmente aspetteremo l'evolversi delle situazioni e come sempre porteremo avanti nel luogo dove i cittadini ci hanno dato la fortuna e l'onore di rappresentarli le loro istanze, quindi qui in Consiglio regionale dove si continua a lavorare testa bassa come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. La deriva assunta dal Movimento genera imbarazzo anche sul territorio, specie laddove si replicano liturgie da Prima Repubblica, come la cena tra Grillo, Di Maio e Fico che ricorda tanto quella tra Massimo D'Alema e Rocco Buttiglione che vista oggi pare collocata nella preistoria. Anche su questo la risposta di Greco è una sola, lavorare, studiare e risolvere i problemi. Io credo che riusciremo ancora una volta rinforzati anche da questa situazione e c'è un solo metodo per farlo, c'è un solo modo, lavorare, testa bassa, studiare, studiare i dossier, studiare quello che accade in regione e far capire ai cittadini che noi siamo la reale alternativa a un sistema che ha tenuto bloccato il Molise per più di un ventennio. Il ragionamento di Andrea Greco corrisponde all'approccio avuto dal Movimento 5 Stelle in questi primi tre anni di legislatura regionale. Un gruppo regionale, quello pentastellato, che si è distinto per capacità di analisi, studio e proposta un volume di lavoro e incomiabile prodotto da un gruppo unito, l'esatto contrario della proiezione parlamentare del Movimento 5 Stelle molisano, partito come una falange tetragona e finito come coriandoli al vento.